Qual è il centro dei nostri desideri? Per che cosa nella nostra vita investiamo importanti energie? A che cosa diamo talmente tanto peso da sentire il bisogno di appellarci a Dio? Ci sono cose che contano davvero, contano per noi, contano per il mondo e ne esistono altre per le quali sposteremmo le montagne ma solo per ottenere splendidi panorami a nostro esclusivo beneficio. Spesso e volentieri sono proprio queste a condizionare la nostra felicità, a renderla non tanto un bene condiviso ma un traguardo da conquistare costi quel che costi. La vita germoglia in modo per lo più imprevisto e allo stesso modo tramonta. Sforzi, progetti, preghiere, investimenti, nulla trattiene la vita e nulla blocca la morte. Possiamo ignorare che accada, possiamo credere che a noi non tocchi mai, possiamo illuderci di sconfiggere l'ineluttabile, ma è davvero così che crediamo di conquistare la felicità? Molti tra noi perdono il sonno in nome del futuro, che non significa necessariamente soldi o fortuna, potrebbe voler significare anche semplicemente salute per i figli, lavoro, quel quanto basta per vivere con un minimo di serenità, programmare, gestire, poter appoggiare i piedi su una piattaforma stabile. Questo in fondo ci basterebbe. Questo spesso riempie la nostra preghiera. Però, se proprio questa notte la nostra vita ci sarà chiesta? Se dovesse accadere proprio a noi, sì, a me, a te, a noi, che cosa succede nel nostro cuore? Come vivremmo, non tanto rispetto a quello che abbiamo messo da parte, perché forse pochi tra noi hanno fatto quello che ha fatto l'uomo ricco della parabola, ma come vivremmo rispetto a quello che ancora non siamo riusciti a mettere in sicurezza per il dopo di noi, per quel futuro che sempre inesorabilmente scappa dalle nostre mani, per quella ricerca di sicurezza che ci ha consumato il cuore, ma che non siamo riusciti a raggiungere. Ripeto, qual è il centro dei nostri desideri? Sforziamoci ogni giorno di accumulare non tesori, ma incontri, sguardi, condivisione, solidarietà. Anche quando ci sembrerà di perdere, anche quando saremo poveri di certezze, nell'incontro con l'altro la vita prepara sempre il raccolto futuro. Buona domenica a tutti noi da